Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, io sono Carlotta, ci troviamo sempre qui a IFA 2017 e vi stiamo portando in giro per i vari padiglioni per vedere i prodotti più interessanti e quelli che ci hanno colpito di più. Oggi volevo parlarvi di Beth Band, questo fantastico device che permette di ascoltare la musica semplicemente con il bluetooth. Come? Semplice, basterà infilarlo qui, lo potremo attivare, a quel punto le onde che saranno prodotte ci permetteranno di sentire la nostra musica qui alle orecchie senza necessità di nessun tipo e non avremo bisogno anche di tassi di niente perché tutto potrà essere passato il volume, cambiata la musica semplicemente con un gesto e il tutto potrà essere poi eseguito all'interno dell'applicazione. Sarà possibile gestire tramite l'app, qui potremo vedere infatti il volume, la musica eccetera, andrà bene con qualsiasi tipo di programma musicale come per esempio Spotify e quindi sarà perfetto per poter ascoltare la musica. La batteria durerà circa 6 ore e che sarà perfetto per poterlo portare in viaggio perché non necessiterà di batteria costantemente e quindi è ideale per tutti quelli che amano ascoltare la musica in giro. Per questo video è tutto, io vi ringrazio di averci seguito, continuate a seguire il nostro canale sia su Facebook che su Youtube e anche il nostro sito per avere tutte le inizioni da Imo 2017, mettete un bel mi piace, ciao!